I carabinieri del Comando Compagnia di Vallea hanno smantellato un articolato sistema per la ricettazione di oro. L'operazione si è conclusa con un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di sei persone, ritenute gravemente indiziate dal relato di ricettazione. La figura cardine su cui ruota tutta l'attività è un uomo di 86 anni, già noto alle forze dell'ordine per le sue trascorse criminali. L'arzilo anziana ha messo in piedi un fiorente mercato di oro rubato con la complicità di un nutrito gruppo di persone con precedenti penali specifici. I militari nel corso di servizi di osservazione hanno accertato che l'86enne si ricava frequentemente presso i campi nomadi di Ivrea, Chivasso e Verolengo per valutare, quantificare e quantificare i moni di d'oro che gli venivano mostrati. Una volta acquisiti i preziosi, lo stesso provvedeva a ricettarli presso i comproro compiacenti della provincia di Torino. Le operazioni eseguite dai carabinieri hanno permesso di rinvenire a casa del Dio dell'Oro un bilancino di precisione, una pietra di ispezione dell'Oro, una lente di ingrandimento e due fiali di acido reggente per oro, mentre nell'abitazione di un altro indagato sono state trovate 15 trasmettenti. Le misure si collocano all'interno di un'attività investigativa ad ampio raggio che ha portato ai militari a effettuare numerose perquisizioni domiciliari di soggetti presumibilmente coinvolti nell'attività illecita. Nel corso dell'operazione a casa di altre persone sono state trovate altre 5 lecce trasmettenti, 3.700 euro in contanti, pietre di ispezione dell'Oro, svariate fiali di acido reggente per oro, un misuratore pernelli, una bilancia di precisione, una macchina contasoldi, vari monili in oro per un peso complessivo di 33 grammi, un finto cartellino di tecnico del gas e delle lettere adesive per targhe auto. Inoltre sono stati recuperati 566 grammi di oro.